Slitta il 31 luglio il pagamento della COSAP per gli ambulanti del mercato di Castel San Giovanni. Il Comune ha deciso di rinviare anche il pagamento della seconda rata, del canone che gli ambulanti versano all'ente pubblico per occupare lo spazio ogni volta che allestiscono il loro banco. La rata scadeva il 31 marzo ma è stata rinviata alla fine di luglio insieme anche alla prima rata che lo scorso mese di febbraio, all'inizio dell'emergenza coronavirus, era già stata posticipata. Il provvedimento interessa oltre 140 ambulanti che il giovedì e la domenica partecipano al mercato di Castel San Giovanni. Una volta terminata l'emergenza, fanno sapere dagli uffici comunali, gli importi dovuti verranno rideterminati tenuto conto del periodo di fermo obbligato che gli ambulanti hanno dovuto osservare. Anche i bollettini precompilati che l'ente pubblico aveva già provveduto ad inviare per tutte e quattro le rate, l'ultima scada ad ottobre, andranno quindi ricalcolati. Oltre agli ambulanti un provvedimento identico interessa anche Barcon Deor per un totale di circa 63.000 euro a cui il comune per il momento rinuncia. Nel frattempo prosegue fino a venerdì 3 aprile il provvedimento che prevede la sospensione del pagamento della sosta per chi utilizza uno dei 188 posteggi di colore blu e cioè quelli di Corso Matteotti, Piazzetta Rocca, Via Calvi, Piazzale Carona, Via 25 Aprile e anche Via Edmondo De Amicis. Grazie. Grazie.